Fare citazioni quando parliamo. Possiamo fare citazioni quando parliamo con le persone, durante una video call, quando parliamo davanti a una platea o interagiamo anche con una o poco più di una persona e possiamo fare le citazioni, ma gli effetti cambiano a seconda di come la facciamo e di dove collochiamo la citazione all'interno del nostro parlare. Al termine di questo video, quindi, avrai la possibilità di citare ispirando, perché ti spiegherò anche che effetti si ottengono a seconda che tu collochi la citazione prima, dopo, durante, invece, eccetera, eccetera. E inoltre, scegliere il momento opportuno per citare all'interno del tuo discorso, rendere quindi unico il tuo intervento. E lo faremo vedendo la citazione che può essere collocata all'interno di una linea del discorso all'inizio, durante il discorso, alla fine o addirittura prima ancora, cioè in esergo, prima ancora di iniziare il discorso. E in questo video vedremo allora i pro e i rischi del fare citazioni a seconda delle posizioni in cui andremo a collocarle. Cominciamo! Vediamo subito come fare citazioni sia da un punto di vista espressivo, sia da un punto di vista argomentativo, cioè dove andiamo materialmente a collocare le nostre citazioni e vediamo che effetti si possono ottenere e perciò quali possono essere i pro a seconda di dove la si colloca e quali sono i rischi. Io non amo dire i contro, preferisco dire i rischi, perché alcuni contro potrebbero essere rischi in senso piacevole, cioè potrebbero per noi essere dei pro, non esattamente dei contro. e fra poco ti spiegherò bene perché e capirai bene perché e vedremo le quattro collocazioni fondamentali e facendo questo ti farò anche delle citazioni prese da autori che io adoro, che mi piacciono tantissimo e che mi hanno insegnato tanto sia nella mia formazione professionale sia per la mia vita e poi capirai anche perché questo è fondamentale e vedremo quindi come farlo in modo espressivo. Ti ricordo che mi puoi contattare qua sotto, trovi i miei contatti e che puoi anche seguirmi sul mio canale Telegram oppure puoi iscriverti anche alla mia newsletter per seguirmi meglio. Ma cominciamo subito. Vediamo gli errori da evitare quando facciamo le citazioni. Il primo errore è quello di fare le solite citazioni, cioè le citazioni che fanno tutti. Insomma, diciamoci la verità. Quante volte hai sentito citazioni di Einstein? E sono un po' sempre le stesse che girano. Attenzione, perché molto spesso capitano che persone utilizzino citazioni che sono citazioni di citazioni. O meglio, non hanno mai letto quel libro, quell'articolo, insomma quella fonte da cui arriverebbe quella citazione, ma hanno sentito la frase come citazione già citata da altre persone. Ma questo è un errore. Perché noi dobbiamo preoccuparci di controllare le nostre fonti. Quindi l'errore è che le fonti non siano verificate. È determinante verificare le fonti. Allora qua sotto, in descrizione, trovi il link a un articolo molto interessante di Focus Online. Ti invito ad andarlo a leggere perché in particolare si parla di citazioni proprio di Einstein e molte di queste sarebbero corrette, altre, secondo l'articolo, sarebbero sbagliate. Onestamente io non te lo so dire perché ammetto di non avere ancora letto, anche se ce l'ho là, non ho ancora letto la teoria della relatività di Einstein, ma in realtà non è che ha scritto solo quello. Non l'ho ancora letto, perciò non so dirti se l'articolo sia corretto, ma insomma la fonte mi sembra piuttosto affidabile. Un altro errore da evitare appunto è quello che le citazioni siano sbagliate. Perché? Perché è vero, io non posso dire se le citazioni su Einstein siano corrette, siano sbagliate, ma alcune persone potrebbero saperlo dire. E quindi che figura barbina? Il punto non è tanto la figura in sé per sé, quanto il fatto che la nostra argomentazione viene a crollare. E fra poco ti spiego perché sto parlando proprio di argomentazione. Ora, colleziona le tue. Questo è fondamentale. Io come faccio? Ho il mio Evernote, ma va benissimo anche un blocco note sincronizzato. Ad oggi lo puoi sincronizzare con un tablet, il computer, lo smartphone, ma va benissimo anche il quadernetto di carta. Una volta avevo il quadernetto di carta, ora trovo più semplice utilizzare il mio Evernote. E colleziona le citazioni. Quando leggi un articolo e c'è una frase che ti colpisce, segnala. Quando leggi un libro e c'è una frase che ti colpisce, segnala. Quando senti una persona parlare, anche in un video, noi possiamo citare persone che hanno parlato pubblicamente. L'importante è che faccia riferimento a quell'evento in particolare. Oggi ti faccio anche una citazione che proviene direttamente dal cinema e ovviamente ti darò gli estremi del film da cui è stata tratta. E lo faccio spessissimo questo. Perciò crea la tua lista di citazioni. In questo modo renderai originale la tua citazione, il tuo modo di citare. E saranno uniche. E il punto è proprio questo. Io amo dire che ispira chi è ispirato. Questa è una citazione, autocitazione, la puoi usare, te la regalo. Naturalmente sto scherzando. Sì, è vero. L'ho pensata appositamente per questo video. Perché ispira chi è ispirato. Se tu infatti leggi una frase che ti colpisce, senti una ispirazione. È questo che succede quando una frase ti colpisce. Allora se senti questa ispirazione, hai la possibilità di riutilizzare in un'occasione che dovesse presentarsi e in cui dovesse tornarti utile quella citazione, di riutilizzare quella frase sapendo che ti ha ispirato e dunque sapendo che ti ha emozionato. Le frasi che oggi io ti riporterò sono tutte frasi che hanno colpito la mia persona sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista più in generale. Ecco, umano. Umano contempla anche il punto di vista professionale. Ora, la citazione può essere in esergo. La pratica non è il mezzo per raggiungere il risultato. La pratica è il risultato perché essa è tutto ciò che possiamo controllare. Questo è di Seth Godin o Seth Godin non so bene come si pronunci onestamente. L'esergo è la posizione al di fuori di un discorso all'inizio di un libro o meglio prima ancora che cominci o prima ancora che cominci un articolo per esempio di blog o di giornale. L'esergo dunque è fuori. La parola esergo vuol dire anche motto e significa anche sentenza. Frase di rilievo perciò. Quando noi collochiamo una citazione nell'esergo cioè prima ancora del nostro discorso di un nostro intervento è come se avessimo un ombrello sotto il quale collochiamo noi stessi e collochiamo il contenuto che andremo poi a iniziare e a sviluppare. Insomma è una sorta di egida di scudo al di sotto del quale ci andiamo a collocare. Questo è certamente il vantaggio della situazione in esergo. Un vantaggio che deriva anche dall'autorevolezza dell'autore di quella citazione. Tutto ciò che noi andremo a dire discende come ispirazione dall'autorevolezza di quel soggetto. Ma attenzione dobbiamo citare autori che sappiamo possono non essere un problema o possono essere un vantaggio per il target specifico quindi gli interlocutori con cui andiamo a interagire. Se per esempio ci troviamo davanti ad un pubblico di credenti è meglio evitare fare una citazione di un miscredente o di un ateo convinto anzi un antireligioso assoluto a meno che non vogliamo utilizzare quella citazione proprio per controbattere o ribaltare la sua tesi la sua idea e porla in esergo come ho fatto io poco fa con questa citazione di Seth Godin significa appunto dare valore al nostro contenuto e questa infatti l'avevo collocata all'interno del anzi scusa all'inizio proprio del mio manuale la trovi ancora nel mio manuale prima ancora ho collocato questa citazione i rischi quali sono è che poi la citazione noi ce la dimentichiamo ma questo potrebbe essere anche non un problema perché evidentemente non va ad incidere più di tanto la citazione sul mio contenuto ma da un'ispirazione generale e da un punto di vista espressivo facciamo un esempio di come possiamo fare una citazione in esergo per esempio durante una video call se io decido che organizzo la video call e che sarò seduto tutto il tempo io sarò seduto va bene quando farò il mio discorso il mio intervento ma prima ancora di cominciare posso fare una citazione e allora quella la potrei fare in piedi dopo aver fatto la citazione in piedi vado ad accomodarmi a sedermi ed è da quel momento che effettivamente inizia il mio discorso come vedi questo è un modo per creare uno stacco netto tra l'esergo cioè prima ancora di cominciare e il discorso o l'intervento vero e proprio se mi trovo su un palco e ho una platea posso farlo prima ancora di salire sul palco prima ancora di accomodarmi o ponendomi al di sotto di una luce che poi non sarà la luce dell'intero discorso quando l'avrò davvero cominciato diversa è la situazione quando colloco la citazione all'inizio del discorso e cioè fa parte del discorso stesso quindi significa che il pubblico o i miei interlocutori sia che sia una persona o più di una capiscono già che questo è parte integrante del discorso per esempio posso cominciare dicendo che ti faccio vedere questa citazione fai un regalo al pubblico lascia che facciano anche loro qualcosa per te Charlie Chaplin significa che noi dobbiamo permettere al pubblico di fare delle cose significa che il pubblico ha bisogno di fare cose cioè non deve rimanere lì passivo quando ci ascolta e allora perché non rimanga passivo quello che dobbiamo fare quando parliamo al pubblico per esempio quando facciamo una citazione è usare la massima naturalezza evitare cioè di spingere sulla citazione evitare per esempio un tono solenne come questo fai un regalo al pubblico lascia che facciano anche loro qualcosa per te e poi comincia a parlare normalmente come sono abituato a farlo in modo naturale ecco questo è un errore io non sto permettendo il pubblico di lavorare questo è importante perché il pubblico non vuole essere passivo il pubblico vuole essere attivo presente bene ti ho fatto tutto questo discorso e ho preso due piccioni con una fava da una parte ti ho detto come cercare di essere più naturale possibile e perciò inserire la citazione all'interno di un discorso col massimo della naturalezza senza dover spingere si dice in gergo teatrale cinematografico ma dall'altra è importante vedere quali sono i rischi del porre una citazione all'inizio cominci con i botti è vero cioè con gli effetti speciali ma attenzione tutto ciò che dirai dopo dipenderà da quella citazione e quella citazione sarà il filtro il riferimento per tutto il resto il rischio è allora che i tuoi effetti speciali debbano gareggiare con gli effetti speciali della citazione naturalmente può essere semplicemente un pretesto la tua citazione ed è meglio che sia così è meglio dunque fare una citazione prendendo un autore che viene da un altro campo un campo parallelo ma non esattamente lo stesso in modo tale da evitare questa competizione prima di vedere la citazione durante il discorso voglio vedere la citazione alla fine del discorso e sfrutterò questa occasione anche per mostrarti anzi per farti sentire che ci possono essere due modi opposti di fare la citazione da un punto di vista espressivo ed entrambi possono andare bene il punto infatti è che per essere espressivi dobbiamo cercare di variare quanto più possibile la nostra tonalità la nostra intonazione il nostro volume il nostro ritmo la nostra velocità insomma il nostro cosiddetto linguaggio paraverbale e quindi ti mostro questa citazione per l'uomo falso l'intero universo è falso impalpabile e nel suo pugno si riduce a un nulla Nathaniel Houghton Nathaniel Houghton è l'autore di La lettera scarlatta questo romanzo bellissimo del 1850 meraviglioso e mi ha colpito molto questa citazione perché è una citazione che ci dice di come rivaltandola in un certo senso la ricerca continua della falsità e della bugia nelle persone è un'ossessione che possono avere le persone che forse non dico che siano abituate ma che possono avere una tensione verso il dire bugie cioè le persone che hanno fiducia nelle persone sono persone che sprigionano fiducia prima di tutto se io colloco attenzione questa citazione alla fine del mio discorso che cosa succede? che sì anche qui finisco con i botti perché è una citazione interessante naturalmente di deve piacere deve essere ispirante finisco bene però c'è un piccolo inconveniente e cioè la psicologia ci spiega come in un elenco di di oggetti che dovessero essere fatti a voce o anche mostrati uno dopo l'altro quelli che ricordiamo più facilmente sono i primi e gli ultimi se io chiudo il mio discorso con una citazione di un altro autore magari bellissima sì faccio bella figura ma il rischio è che il mio pubblico si ricordi dell'autore della sua frase ma si dimentichi della mia tesi della mia idea della mia proposta quindi se proprio voglio citare qualcuno questo è quello che che faccio abitualmente alla fine di un discorso ebbene cito me stesso e cioè ripresento la tesi in modo super sintetico e in modo dirompente domande se hai domande scrivile qua sotto nei commenti interagiamo perché mi piace anche girare video che vanno a rispondere ai dubbi alle curiosità alle angoscere e perplessità delle persone che guardano i miei video e quindi dunque anche girare video che possano davvero essere interessanti per le persone che mi seguono andiamo avanti e vediamo il punto che io preferisco per fare la citazione e cioè durante il discorso all'interno del discorso si dice che l'appetito viene mangiando ma in realtà viene a star digiuni toto ora in questo modo ti ho mostrato anche anzi ti ho fatto sentire l'intonazione che si può dare a una citazione io ho dato una intonazione di tono più alto si dice che l'appetito viene mangiando ma in realtà viene a star digiuni poi ho cambiato variamente ma potrei anche utilizzare un tono più basso si dice che l'appetito viene mangiando ma in realtà viene a star digiuni ecco ho cambiato il tono non importa se il tono è più alto o più basso non è questo il punto l'importante è cercare di variare il tono sempre all'interno di una cornice come abbiamo detto di naturalezza perché collocare la citazione in mezzo è quello che preferisco ma perché se colloco la citazione dentro il discorso ne posso fare anche più di una poi dipende anche dalla lunghezza del discorso non troppa perché altrimenti il discorso non è più mio ma è un collage di altri ma se io lo colloco all'interno del discorso la citazione non è altro che uno dei tanti argomenti che vado a utilizzare per sostenere la mia idea e cioè non ha più importanza come all'inizio e da cui discende tutto il resto non diventa non diventa determinante alla fine per cui c'è il rischio che le persone ricordino solamente quella citazione ma diventa uno strumento come può essere per esempio un'immagine che vado a utilizzare come può essere una metafora una similitudine uno strumento fra i tanti riepilogando abbiamo detto di variare l'espressività variare la postura come abbiamo visto per l'esergo verificare le citazioni che siano corrette e soprattutto fare le proprie citazioni perché chi è ispirato può ispirare può ispirare e ti ricordo che io sono Stefano Todeschi che sono specializzato in public speaking in pratico significa che aiuto in pratica le persone a parlare in pubblico a interagire con le persone durante le riunioni durante le video o durante una conferenza in qualunque situazione in cui le persone debbano parlare con altre persone e ti ricordo che puoi anche seguirmi sul mio canale Telegram seguirmi iscrivendoti alla mia newsletter e continuo a seguirmi qui su YouTube buon divertimento l'anima l'anima a